Potranno partire entro breve i lavori nel tratto fiorentino in riva d'Arno della variante alla strada regionale 69 del Val d'Arno dopo il completamento già realizzato del tratto a retino della stessa strada. Lo scorso anno la regione toscana dopo un periodo di stallo ha preso in mano i lavori che prima erano in capo alla città metropolitana di Firenze e ora si stanno concludendo le ultime procedure. Poi gli interventi potranno iniziare nel primo lotto, da Ciliegi a Prulli di sopra. Ad oggi noi abbiamo 34 milioni disponibili per la realizzazione di questa parte dell'infrastruttura che dalla Badiola nel comune di Terranova deve arrivare sino al casello di Incisa dove viene realizzata una grande rotatoria che è in fase di appalto ad opera della città metropolitana. Nello specifico per il primo lotto sono stati stanziati 4 milioni di fondi regionali, 6 sul terzo, 9 sul quarto e quasi 15 sul quinto. In questo modo la regione si è messa nelle condizioni di poter dare completamento ad un'opera che come dicevo è da lungo attesa è un'opera necessaria sia per fluidificare ovviamente la circolazione nell'ambito del Valdarno ma anche per dare una risposta in termini di maggiore sicurezza. Obiettivo, ha detto l'assessore Ceccarelli, dare al Valdarno il più velocemente possibile un'infrastruttura a servizio di una vallata dove hanno sede molte aziende e di conseguenza molto trafficata. Grazie a tutti.